buonasera buonasera bentrovati nuovo appuntamento con topic topic necessariamente dedicato al calcio questa sera le 20 e 30 al massimino la partita della vita per i colori rosso azzurri è chiaro che la formazione di zeoli vuole tirarsi su da queste sabbie mobili che l'hanno accompagnata per tutto il campionato ci sono stati dei lampi di luce in un buio immenso per quello che riguarda la graduatoria finale però ecco le partite secche l'andata e ritorno danno disposizioni diverse leggi diverse il pronostico cade quando sento dire da qualche collega che l'avellino è favorito dico sta dicendo secondo me un'enorme sciocchezza perché non perché l'avellino sia inferiore del catania o non ha dimostrato di essere una squadra più forte perché a 24 punti di più in classifica del catania è arrivata è arrivata in seconda posizione il problema è legato al fatto che bisogna stabilire in quella partita in quelle due partite che si trova meglio psicologicamente e le motivazioni la fanno da primeggiano allora il catania cosa ha fatto nelle ultime partite quando è contato realmente il risultato ha vinto ha vinto la coppa italia quando contava il risultato ha vinto il doppio confronto con l'atalanta under 23 anche se poi dobbiamo dire che la formazione bergamasca ci ha schiacciato al massimino e vedete lì la differenza la fanno l'ha fatta la motivazione perché il catania è andato a bergamo e l'ha schiaffeggiata l'atalanta poteva chiudere la partita sul 3 a 0 all'inizio perché ha giocato una grande partita al ritorno invece al massimino il catania si è solo difeso perché la formazione bergamasca ci ha messo letteralmente in difficoltà anche se sono stati dei momenti in cui il catania poteva anche segnare portarsi in vantaggio e avrebbe spento il la voglia di strafare dei bergamaschi vede vedete queste partite sono poco leggibili perché non si sa mai come i giocatori scendono in campo e con che determinazione allora la cosa che voglio sottolineare che è fondamentale è il catania riscende in campo dopo poco tempo diciamo che si presume abbia potuto recuperare le sue forze affronta un avellino fermo da praticamente tre settimane anche se ha fatto degli allenamenti eccetera eccetera però è tre settimane che non respira lagone del campo reale e allora questo potrebbe essere un punto di vantaggio per il catania perché chiaramente ha dovuto sfidare nel dubbio e confronto un atalanta che ci ha messo in particolare difficoltà allora al massimino il catania come deve giocare deve giocare attendendo l'avversario deve giocare a viso aperto deve giocarsela per vincere deve giocarsela come se fosse già il ritorno e si è così il catania dovrà giocare questa sera al massimino con un risultato su due non pensare al ritorno deve pensare di chiudere la partita questa sera i numeri ce li ha perché in un ambiente ideale con un palcoscenico che i giocatori pagherebbero per poterlo vivere loro sono pagati invece anche profumatamente e allora il catania deve giocarsi questa partita con la giusta determinazione non deve pensare alla partita di ritorno al partenio perché lì sicuramente la squadra di casa farà valere la la presenza del suo pubblico e allora il catania che ha uno dei pubblici più importanti d'italia con 23 mila tifosi sugli spalti questa sera nonostante il turno infrasettimanale nonostante il martedì e allora se la può giocare pensando ad un'unica soluzione quella della vittoria i convocati i convocati li sapete praticamente tutti perché li leggete ovunque c'è un'attenzione particolare che arriva da tutti i media non solo i social ma anche le televisioni le radio parlano di questo evento di questo incontro catania avellino due nobili decadute del calcio italiano non meritano le due città le due squadre la serie c meritano la serie a e quindi io mi auguro che tutte e due possano tornarci al più presto è ovvio che in questo doppio confronto noi ci auguriamo che sia il catania a poter fare ancora l'ulteriore passo verso quel sogno accarezzato già da diverso tempo la serie b dopo le vicende passate allora dicevo dei convocati i 23 a disposizione di zaoli ci sono di zeoli ci sono due giocatori che mancheranno e sono curado che si è infortunato e per alta e poi nel contesto sono tutti gli effettivi che sono scesi in campo contro l'atalanta averi rapisarda bua conte che quaini castellini celli monaco per quello che riguarda il gruppo dei difensori centrocapisti in doi teio sturaro welbeck e zammarini quindi sturaro potrebbe anche avere qualche minuto per mettere a disposizione la sua grande esperienza che è venuta sicuramente a mancare nello scacchiere di zeoli e poi gli attaccanti sono costantino di carmine cicerelli chiarella chirico marsura e cianci e allora e con l'atalanta per chiudere i commenti che abbiamo fatto anche in settimana il portiere furlan è stato il miglior portiere visto probabilmente nel campionato di serie c di tutto il campionato perché ha fatto numeri eccezionati eccezionati da uomo ragno diciamo così di zenga parlando di un altro ex importante a catania anche il reparto avanzato invece non ha risposto si è mangiato l'impossibile l'impossibile e ha messo nelle condizioni catania di poter non passare il turno comunque ormai andata siamo ad abellino nel nostro obiettivo io sono fiducioso sono fiducioso per la grinta la determinazione che non deve assolutamente mancare la voglia di vincere di continuare questa avventura è chiaro che i ragazzi sono consapevoli che bisogna arrivare ad abellino con il vantaggio non bisogna arrivare ad abellino per giocare alla ricerca di un risultato che possa poi favorire il passaggio del turno la partita fondamentale per i colori rosso azzurri e questa sera al massimino voglio anche ricordarvi così per per statistica augurandoci che ci sia il catania il 28 di maggio a scendere in campo nuovamente al massimino contro una delle avversarie importanti di questo campionato di serie c anche se appartengono a altro girone almeno una squadra parliamo anzi tutte e due di fatto il vicenza e il padova ecco vicenza e padova padova che è arrivato secondo vicenza che è arrivato terzo in classifica quindi l'elite del calcio di serie c il catania sarà dovrà giocare questa sera puntando al 25 per un risultato che dovrebbe essere già scontato se la deve giocare stasera la sua partita sia belleità ribadisco con forza di passare il turno e poi queste saranno gli avversari o il vicenza o il padova noi ci auguriamo di arrivare a questo doppio confronto e veramente dopo questo avversario che io ritengo il più forte in assoluto che poteva capitare al catania il catania quando gli avversari sono forti tira fuori qualche cosa di più speriamo che questa sera sia l'occasione giusta intanto ci sarà il sold out al massimino e quindi il tifo i colori le bandiere non mancheranno per far sì che il catania possa scrivere un'altra pagina importante nella sua giovane storia questa di questa matricola di questa nuova società siamo arrivati alla fine di questo approfondimento come sempre vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo le nostre coordinate redazione a chiocciola spazionotizia.it e poi il 379 224 24 20 grazie per avermi seguito arrivederci